Naturalmente a rappresentare un settore che ha sofferto, ora ne parleremo anche durante la puntata e che sta soffrendo moltissimo, si è sempre interessato di quello intorno a sé, di politica, di società. Come sta vivendo questo periodo e cosa pensa delle parole di Bersani? Io penso innanzitutto che la responsabilità nostra rispetto a quella di Bersani è innanzitutto di cercare di dire pochissime cose, quelle poche che dobbiamo dire abbastanza chiare, perché ultimamente da spettatore, parlo di questo, io sono in lockdown come tutti, quello al quale assista è un teatro che non faccio io e non fanno i miei colleghi, ma fanno il mondo della politica, il mondo della medicina, i vari, come posso dire, i tutologi che invadono le televisioni in tutti i canali. Perché dico questo? Perché la responsabilità, credo, di chi come me appunto non ha responsabilità diretta sia proprio quello di cercare di mediare tra le varie situazioni. Mi spiego ancora meglio. È inutile che diciamo no, sì, le chiusure, non le chiusure. Noi quello che pensiamo è vaccini per tutti, vaccini prima possibile, evitare quello che purtroppo è successo e pensavo in qualche maniera succedesse in Italia, perché questo è il paese dei furbetti. Noi produciamo principalmente furbetti, cioè quelli che saltano le file, quelli che hanno fatto, mi ricordo la Calabria, si scoprì che erano vaccinati a momenti bambini in culla e anziani che non erano neanche considerati. Per legarlo e facendo un parallelo con la situazione inglese, Boris all'inizio era in un disastro totale. Io, mia figlia, scusate, mia figlia che vive a Londra, e passammo l'inizio della prima ondata, devo dire, con una grande tensione, perché non riuscivo neanche a farla ritornare in Italia. Invece poi il suo figlio ha preso il Covid. Quello è stato la storia di mio figlio, però parlo rispetto a che oggi a Boris piace vincere facile, perché comunque il vaccino se lo costruiscono loro, non a caso quelli che devono arrivare arrivano sempre in numero inferiore rispetto a quelli ordinati e lui da un certo momento in poi, perché le notizie che io avevo da Londra era che Londra non era in lockdown, il lockdown che dice Bersani è quello che è venuto da un certo momento in poi. Hanno saputo correggersi. Hanno saputo correggersi in corsa. Io oggi, per quello che è le difficoltà che hanno tutti, anch'io come i ristoratori, come gli albergatori, come gli artigiani, come tutti quelli che stanno soffrendo, soffrendo in questo momento, però devo cercare anche di ragionare. E capire che se riaprire significa non essere pronti noi dal punto di vista medico a recepire e a frenare l'urto, secondo me significa ogni volta fare come abbiamo fatto quest'estate. Avevamo guadagnato dei punti rispetto all'Europa, li abbiamo perduti correndo garruli sulle spiagge della Sabina. Cosa deve succedere Bersani? Grazie.